Il Conte Frate e l'ultimo Papare, legati tra loro da un seppur legame di parentela accomunati dallo stesso destino di gloria, culminato con la beatificazione di entrambi. A legare innanzitutto il Beato Gabriele e il Beato Pio IX è il cognome, Ferretti, anche se li separano a 400 anni. Gabriele infatti nasce ad Ancona nel 1385, in un ambiente nobile ed aristocratico, ma non per questo meno cristiano. Famiglia numerosa alla sua, ben dieci figli maschi, che nonostante una tradizione di devozione alla Chiesa e dal Papa, non reagisce molto bene all'idea di Gabriele di farsi frate. Frate di Santo Francesco, di cui nelle Marche e soprattutto ad Ancona, sembra ancora alleggiare lo spirito. Sicuramente il fascino è di richiamo. Una cosa è l'inclinazione di Gabriele per le cose di Chiesa, la spiccata pietà, le numerose devozioni che lo contraddistinguono, gli anni della fanciullezza e dell'adolescenza. Altra cosa è buttare alle ortiche titoli nobiliari e patrimoni di famiglia in cambio del rozzo saio francescano. In qualche maniera nella scelta non facile di Gabriele si ripete il dramma della scelta di San Francesco, che alla sua facoltosa famiglia preferisce madonna povertà. Gabriele una volta frate e sacerdote comincia a distinguersi, non certo per i suoi nobili natali, ma soprattutto per la sua fermida intelligenza che gli procura incarichi delicati e preziosi, da maestro dei novizi a vicario provinciale dell'ordine. Se poi queste doti di natura si fondono con una serena concentrazione in Dio, una soda pietà, una tenera devozione alla Madonna, ecco completato il quadro di un frate che predica con successo, trascina le folle, ravviva la fede soppita, ottiene conversioni. Padre Gabriele percorre a piedi in lungo e in largo le marche, prima come predicatore, poi come vicario provinciale, fonda conventi, in altri rinnova o rinvigorisce la vita religiosa, dappertutto lascia una scia di santità che affascina la gente. Qualcuno prova anche a mettergli bastoni fra le ruote, come quella volta ad Osimo, dove con maldicenza lo cacciano dalla città, dove poi torna poco dopo osannato dalla gente. E quando lo vogliono mandare in Bosnia a predicare contro i manichei, si muove addirittura il consiglio comunale di Ancona per chiedere al Papa di non lasciar partire un frate così. Che intanto invecchia ma non perde il buon umore, l'umiltà e la carità. La salute invece declina e il suo corpo, al quale con fatiche e penitenze ha chiesto davvero troppo, diventa fragile. Spira in un mare di luce il 12 novembre 1456 e sulla sua tomba inizia subito una processione da infermi, molti dei quali tornano a casa guariti. Nel 1753, benedetto XIV, decreta l'onore degli altari per il conte Frate, che, proclamato con patrono di Ancona, viene festeggiato il 12 novembre. Il martirologion romano pone la sua memoria al 9 novembre. Ringraziamo Giampiero Petitti per il sito santiebeati.it Si è lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il santo scelto per il giorno di oggi, 9 novembre, un santo che la biografia spiega tutto. Aveva dei doni incredibili di conversione. Questi doni gli sono stati dati appunto perché lui stesso, come il santo, il fraticello di Assisi, ha rinunciato a se stesso, ha rinnegato a se stesso e tutta la sua nobiltà per servire gli altri. Sicuramente lo Spirito ha lavorato in lui, ha visto quanto c'era di buono e con quel sì che avrà detto al Signore si sono potuti così confermare tutti i doni carismatici che hanno portato quest'uomo a compiere veramente azioni grandissime, azioni di conversione. Ecco, la conversione prima deve essere la nostra, deve essere quel moto in cui diciamo sia a Dio e no a tutto quello che ci appartiene, ma proprio tutto, soprattutto quello che ci costa più fatica. Come ben spiegava Gesù in quella parte di Vangelo in cui il ragazzo va lì e dice voglio seguirti Signore, e il Signore dice va bene, vieni, e lui gli dice ma io ho seguito tutti i precetti, e lui gli dice va bene, però per essere perfetto vendi tutto e seguimi. In quel momento lì poi il ragazzo dice no però insomma a me come dire non sono forse pronto, quindi ecco quando frate Gabriele ha abbandonato soprattutto in primis quelli che sono i suoi doni allora abbiamo capito che stava seguendo Gesù, era degno di lui e Gesù non può che ricompensare queste persone che lo seguono in maniera totale. Ecco, frate Gabriele penso non sia un qualcosa di eccezionale nel senso di rapportarsi a Gesù, cioè di quello di offrire tutto se stesso. Diventa eccezionale quello che Gesù offre agli altri in base alla nostra volontà di offrire noi a Gesù. Ecco, io penso che il rapporto che si ha con Dio è un rapporto che si può avere con qualsiasi persona. Io do a te, tu dai a me, è un rapporto di scambievole amicizia, di scambievole cordialità. Il Signore è quello che ci dona, ce lo dona gratuitamente, ma anche in base al prezzo che noi paghiamo per noi stessi. Grazie. Grazie. Grazie.